Ci posso credere Che è passato? Un'infortunio Un'infortunio nel campo Questa frontiera è desolatissima C'eravamo solo noi C'è un tappetino e ti fanno pulire i piedi Prima di entrare in Brasile Abbiamo fatto questa pratica E poi abbiamo passato il confine Per Foggio di Guazuga Sarebbe l'altra parte di Guazuga Molto pericolosa e enorme rispetto alla parte argentina Dopo quella città abbiamo avuto l'avventura Che la macchina si ferma Il danno sembrava anche abbastanza grave Praticamente la testata era partita Dopo un paio d'ore di meeting Abbiamo deciso di continuare per Salvador Tutti quanti nel canino Abbiamo deciso di andare verso Florianopolis Prima che sarebbe la prima città del sud Dopo un parto allegro in Brasile Anche sul camion notavamo i primi tumori strani Appena arrivati a Florianopolis Il giorno dopo scoprimmo di aver rotto un pezzo D'altatissima del camion E quindi da lì abbiamo cominciato questa lunga ricerca Con Luigi Il camion essendo inglese Con il livello di là Non tutto coincideva Quindi siamo venuti ad andare per vari spazi Abbiamo trovato questo pezzo L'abbiamo adattato E dopo due settimane abbiamo risolto il problema E ci siamo riuscissimi a faccio Il nostro caro amico Un grande bagaglio di esperienza Adesso un nuovo progetto Chiamato Noborders Con Giulia E altri ragazzi francesi Continuando il viaggio insieme Junto verso San Paolo E qui in questo Da via poi Un caro amico di Chris Video Makers Faceva parte di questo progetto Brava anche il tour Brasile Anche per eventi questo grande Nobri per rifare i video Anche per i contenuti Che poi ci mettevano Tutti simili ai nostri Bastanza propoli Noi prendemmo contatti con lui E farlo venire a capo D'andresta di Salvador di Bahia Una buona connection Che poi ci portava anche a fare Poi doveva anche a San Paolo La situazione della città Era abbastanza in fermento Perché le varie bande della città Erano lotta fra loro E quindi erano già successe Parecchi attacchi ai turisti A gente dei quartieri più ricchi E varie cose abbastanza pesanti La pericolosità Che comunque noi sapevamo appunto Che questa città potesse avere Estando così grande Anche non la conoscevamo per niente Poi da quando abbiamo conosciuto Meglio questi ragazzi di Trabica Brasile Andavamo cominciato a uscire con loro A collaborare Siamo andati con loro a fare Il festival Nella loro favela Nel campo di calcio Favela Lenni Si chiamava nella zona Tud È stata molto variegata Comunque c'era di tutto Tra bambini Tra bambini di tre anni A vecchietto di 90 anni Passando per tutti i tipi di giovani Appena abbiamo acceso la musica Diciamo tutta la gente È arrivata davanti al sound E tra bambini Gente più grande Tutti che ballavano Con Pizziu Gamao hanno fatto gli MC Sopra le varie stracce Suonate da Massimo E Chris È stato farli divertire Per una notte intera Farli ballare Farli penso sentire Come tutti quanti Tutta quanta la gente Che si può divertire Ballare E ospitare un gruppo straniero Nel posto dove abita La cosa più bella Che è nata da questa connexion È stato il fatto Di aver conoscito Una persona come Gamao Questo ragazzo Oltre ad essere MC Quindi cantare È un ragazzo Che fa graffiti Che lavora sul sociale Oltre che lavora Nelle scuole Insegnando bambini di Gugnano Ha dato l'opportunità Di vivere a stretto contatto Con una persona Insomma Del Brasile E quindi poi Di conoscere Le varie spaccettature Anche di una persona Veramente di in un posto così La favela Un mondo nuovo Per cui Avevamo sicuramente Sentito parlare tutti Ma mai nessuno di noi Ce ne entra avremo Diciamo Il parallelo Che ha le sue leggi E i suoi codici Ma fu appunto Proprio per quello Che portammo noi Fummo non solo accettati Ma ci invitarono Nelle case E fu veramente Una cosa incredibile Siamo andati a mangiare Dai genitori Di uno degli MC Di Fankibuya Dalla madre Mamma appunto Che ci ritimava Per il Giorgiano Per il Giorgiano Per una scuola Molto Molto bella Mi abbiamo apprezzato molto Perché diciamo Insomma Un clima di povertà assoluta Dove è difficile Veramente quasi Trovare da mangiare Tutto il giorno A pensare Cosa poter cucinare A questi ospiti Vegetariani Che sembravamo Un po' marziani Ci ha fatto capire Quanto poi Tenessero veramente A noi Insomma All'evento E quanto avessero capito Quanto valeva per noi In Brasile Mi ricordiamo Con più Con più gioia Da 2006-2007 Io ho raggiunto Kernel Panic Prendendo poi Un aereo Dalla Colombia È stato Emozionante Perché dopo Un anno di esperienze Chi veniva da giù Tutta una parte Di Kernel Panic Arrivando da Buenos Aires A salita verso il nord Io invece avevo fatto L'esperienza Con Travia Dal nord Verso il sud Quindi c'è stato Questo punto di incontro Per organizzare Questo capodanno Insieme A Salvatore de Bahia All'interno Della favela Di São Cristóvão Grazie a persone Che avevamo conosciute A Buenos Aires I primi mesi Del nostro soggiorno In Sud America La prima volta Che ho sentito A parlare Della missione Southside Ero in Bolivia Ormai da 5 mesi E incontrai Chris e Giulia Che fanno parte Appunto Del gruppo No Border Sound E loro mi parlavano Appunto Di questo capodanno In Brasile A Bahia Una festa Proprio lì Dentro la comunità Mantenevamo anche il fatto Che le persone Della comunità Venissero alla festa L'abbiamo fatto insieme Appunto Al nostro amico Gamau Abbiamo registrato Un paio di spot A questo evento A capodanno Proponendo tutto quello Che poi sarebbe successo A fare i DJ A fare i DJ A fare le performance E anche A questo collettivo Che abbiamo conosciuto lì Che si chiama Ministerio Pubblico CMC Soprattutto su Raga Comprensibile un po' a tutti Una cosa molto semplice Gamau Con la base Che abbiamo fatto noi Con un BPM Molto lento Abbiamo fatto una piccola canzone Sopra Abbiamo incontrato Quest'altro ragazzo Che aveva un piccolo carretto Con un megafono E siamo andati in giro Che aveva un po' a tutti Non è daquele jeito Chego pra firmar Já falei Mais uma cestruta Sou favelaco Timi cabuloso Chegando Nossa corrente Tá ligado mano Só ideia consciente É hip hop De periferia A gente chega mano Essa é nossa quadrilha Conexão Brasil Itália A gente chega Mano São quadrilha Na parada Dizialuagem Dall'inizio del viaggio Che diciamo Era un po' Tra virgolette La missione Arrivare lì E fare questa cosa Con i vari contatti Che abbiamo conosciuto Siamo Abbiamo fatto Due o tre settimane Di preparativi Molto intensi Abbiamo costruito Varie cose Soprattutto usando Anche il bambù Perché lì C'era il bambù Oltre parti Amici Ci hanno raggiunto Dall'Europa Già collaboravano Con noi da prima Quindi abbiamo L'energia Da parte di tutti Nel fare questo allestimento In questo spazio Che avevamo Sicuramente Non era Il capodanno europeo Da tremila persone Comunque Stava una festa Molto particolare Con parecchia gente Appunto Della comunità Che è venuta Poi si è protratta Appunto Per un paio di giorni Abbiamo fatto Delle performance Con un circo piccolino Di trapezio Tessuto Al momento della mezzanotte Un piccolo spettacolo Di sospensione Con Ale E il nostro amico L'appunto Che preoccupava Abbiamo fatto Tutta una sessione Di amici Con tutti i ragazzi Brasiliani Del ministerio pubblico E altri ragazzi Che insomma Facevano Questo piccolo concertino Ovviamente Grazie all'aiuto Di parecchie persone Lì Anche altre persone Che avevamo conosciuto In giro per il Brasile Prima Sono venute Una cosa molto intensa Molto Molto divertente I testi del posto Avevano dato Il loro contributo Infatti c'è avuto Questa impressione Proprio di colori Che rispecchiavano molto Anche l'atmosfera Brasiliana Ecco Ate Grazie a tutti. Oligno è stata la parte più frizzante, allegra e vitale di quasi metà della missione. È stata una persona per me importantissima da conoscere perché mi ha fatto conoscere proprio quell'aspetto del Brasile. Proprio selvaggio però anche con uno spirito di generarsi, di continuare a cambiare, mi ha veramente stupito. Lui, stando con noi, ha imparato anche a capire poi quali sono le varie dinamiche di persone che mali si vivono cose che possiamo viverle noi in Europa. Una persona cresciuta nella favela ha una visione quotidiana della vita. Ho già parlato di progetti, di futuro, di viaggio e tutto, perché lui era una cosa comunque nuova e risaltante. Ha portato a noi una vitalità estrema e poi alle feste siamo riusciti a coinvolgerlo perché era un ballerino bravissimo. E quindi, diciamo, pian piano ha iniziato anche lui a fare delle performance con noi che sono rimaste memorabili nello scenario delle nostre feste. E ha continuato il viaggio con noi fino in Argentina. Sorprendente sia per lui che per noi perché comunque sia è un'esperienza assurda. Immaginate già che è difficile uscire da un paese, riuscire ad andare in una grande città. Immaginate passare da una favela, poi di Salvatore del Baglio, che comunque sia una giungla praticamente. Comunque non è come le favelle del sud. E poi fare un viaggio che ti porta a 3.000 km dal tuo paese, insomma, penso che sia stata un'esperienza molto forte. Una parte. Ehi, ma dà qua, papapoo. Camão, falla conientare. Vai, a tutti. Ha proseguito il viaggio con noi fino a Salvatore del Bahia. È stata un'esperienza veramente profonda perché ci ha permesso di capire delle cose appunto del Brasile in un altro modo, di vederle anche con i suoi occhi e quindi di avere veramente un reso conto più reale, il fatto che anche un cantante e quindi una persona che ha dato lo stimolo di viaggiare, poter muoversi finalmente da Sa Paola, uscire da Sa Paola e fare tre mila, che fa arrivare fino a Salvador del Bahia. Dio sabe di tutto, ma non è caguita. Ora traduzione, leggenda. La Dea del Mare è un principio di carnevale qui in Salvador. La Dea del Mare, la Dea del Mare, la mattina inizia la giornata, tutta la gente che porta omaggi. A livello folkloristico è meraviglioso, non abbiamo partecipato a tutte queste situazioni che sono bellissime, che fanno parte della città, ma che poi ti fanno sentire veramente però un estraneo. Abbiamo partecipato in un altro modo, in maniera un po' più attiva. Siamo riusciti tramite il Ministero Pubblico a montare un piccolo sound in una via che affacciava sulla via principale, appunto sul mare. È stato un po' un esperimento prima del carnevale. Milioni di persone in giro per la città. I Ministeri Pubblici hanno cantato, cantano anche cose comunque legate al folklore, alla gente. Anche le persone non sono, non fanno parte dell'underground, hanno subito colto lo spirito. Via si è riempita subito di tantissima gente. Abbiamo avuto dei problemi con la polizia. Sono arrivati e hanno fatto appunto delle perquisizioni molto aggressivi nei confronti sia nostri che comunque della gente che ballava. Appena passa la polizia, dopo un secondo c'è già la gente che beve, salta, balla.